Arley, questa la chiami una veglia? Dove sono tutti? Ah, so cosa tenti di fare, Batman Tu e la tua tossina Pensi che la cosa mi spaventi? Arley, smettila di frignare e organizza una veglia Arley? Arley! Arley, smettila di frugio Arley, smettila di frugio Benvenuti a Buonasera Gotham, con Vicky Bane. E... Glenn Woodburn. Dunque, Glenn, oggi è l'anniversario della morte di Joker. Hai qualcosa da dire a riguardo? E chi sarebbe? Joker, ve lo ricordi? Il tizio del punto interrogativo è morto? No, non lui. Scusa, Vic, dammi una mano. Sai che ti dico, non fa niente. Scordiamoci di lui e andiamo avanti. Sì, scordiamoci di lui e andiamo avanti. Per la cronaca, oggi a Blicke Island è stato inaugurato un museo dedicato all'arci nemico di Batman, il Pinguino. Oh, credi che quello sia terribile, Batman? Quando uscirò scriverò il mio nome col sangue in ogni strada. Lo inciderò in ogni catavere. Farò, farò... Nessuno si dimenticherà di me! Allora, come faccio a uscire da qui? Ma dove sei? Vieni fuori! Ti troverò! Fatti vedere! Hai finito le idee, Batman? Vieni fuori! Vieni fuori! Vieni fuori! Vieni fuori! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sai, mi hai quasi fatto morire dallo spavento, Batman. Morire? Ma di cosa dovrei aver paura? Hai paura di diventare cedere? Hai paura di essere diventato? Eh sì, tu verrai dimenticato, Joker. Per causa mia. Io sono la vendetta. Io sono la notte. Io sono Batman. Oh! No! Batman, aspetta! No, ti prego! No! Addio, Joker. No, Bruce! Non lasciarmi! Ti prego! Ho bisogno di te! Hai capito bene, Gotham. Nessun salvatore. Nessun aspetta.